signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale volevo concludere la stagione con un video che raccontasse la storia dei giochi di ruolo e di come si sono evoluti dallo wargame per diventare quello che sono attualmente però fortunatamente per me il canale di wargame per passione giusto qualche mese fa ne ha fatto uno quindi io posso iniziare le ferie una settimana prima e noi possiamo vederci insieme il video di quel canale ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su wargames per passione mi sono accorto di non aver mai parlato della storia del wargame doveva essere probabilmente il primo video del canale in cui io racconto che cos'è il wargame la storia del wargame questo qui è bravo e per questo che l'ho messo tra i canali consigliati diciamo 1970 abbiamo una crescita di wargame enorme è in quel periodo che nasce la games workshop per quanto in quel periodo non si occupasse ancora di wargame in quel periodo è cavalcando poi l'onda l'onda dei giochi da tavolo che lei inizia a pubblicare il primo regolamento di quello che adesso è conosciuto come dungeons and dragons ma è cosa la game workshop che pubblica di andy ma che bestemmia è mai questa devo rimandare le ferie già nel 1980 non ti puoi mai fidare se vuoi che qualcosa venga fatto bene devi fartelo da solo la storia del gioco di ruolo a inizio nel 1969 mentre in italia venivano compiuti attacchi terroristici prima che questo diventasse mainstream in america l'harpa stava per dare una svolta epocale all'industria delle foto di gatti sviluppando arpanet che sarebbe poi diventato internet che oramai è diventato facebook l'uomo andava sulla luna due volte ma dato che non c'era facebook e non poterano postare i selfie nessuno gli credette la situazione avrebbe potuto anche degenerare ma in realtà nessuno ci fece caso perché i beatles cantano sul tetto la nostra storia inizia con dave weasley weasley era un appassionato di wargame che all'epoca andavano per la maggiore ma era annoiato dal fatto che le partite soprattutto quelle a molti punti fossero eccessivamente lunghi e alla fine degenerassero quasi sempre in bisticci sul regolamento cosa che oggigiorno naturalmente non accade più decise quindi approfittando di una convention su wargaming che si sarebbe tenuta all'università del minnesota di sperimentare su un nuovo stile di gioco su cui ultimamente stava lavorando weasley aveva fuso insieme due concetti presi a due giochi diversi da modern war in miniature prese l'idea che i giocatori non controllassero ognuno un intero esercito ma che ogni giocatore controllasse un singolo soldato e che i giocatori fossero divise in squadre le une contro le altre da strategos invece un gioco che all'epoca andava veramente molto forte prese il concetto di un arbitro neutrale che supervisionasse la partita e avesse l'ultima parola insindacabile sulle regole per abbreviare i tempi e evitare le discussioni per il suo primo esperimento weasley ideò una mappa scenario in cui ogni giocatore controllava un singolo soldato dell'era napoleonica ognuno dei quali con delle sue specifiche abilità tutti i giocatori avrebbero dovuto in fazioni avverse esplorare l'immaginario paesino di brownstein ognuno di loro con una sua missione da portare a termine durante la partita ovviamente nessuna delle fazioni raggiunse la città di brownstein la maggior parte dei giocatori non riuscì a conseguire i propri obiettivi personali e la quasi totalità dei partecipanti ignorò del tutto il proprio obiettivo personale per divertirsi a fare cacciara in giro con gli altri giocatori sì quella che può definirsi la prima sessione di gioco di ruolo avvenuta nel mondo finì con i giocatori che ignoravano totalmente la quest e il master per divertirsi a farsi gli affari loro una tradizione che i giocatori portano orgogliosamente avanti tutt'oggi col passare del tempo lo stile di gioco brownstein cominciò pian piano a diffondersi in tutti gli stati uniti si arriva così al 1971 le catene di sant'antonio stavano per ricevere nuova linfa grazie all'invenzione dell'email e nonostante l'interscambio di foto di gatti a livello globale fosse soltamente a un passo nessuno ci stava facendo caso perché i beedle si sono sciolti in quello stesso anno avvennero due eventi fondamentali per la storia dei giochi di ruolo in un club di gioco di lake geneva due ragazzi appassionati di wargame gary gaiax e jeff perren avevano scritto il loro regolamento basato su un gioco di combattimenti medievali chiamato cane mail il gioco aveva avuto anche un buon responso aveva però naturalmente come primo lavoro un sacco di falle quindi i due si erano subito messi al lavoro per pubblicarne poi una seconda versione per l'anno successivo gary gaiax che era un grande appassionato decise anche di introdurre in questa seconda versione di cane mail degli elementi heroic fantasy contemporaneamente nel minnesota dei warrenson che era stato uno dei giocatori della primissima brownstein aveva diffuso quello stile di gioco tra gli amici del suo gruppo apportando però un paio di modifiche prima di tutto i giocatori erano riuniti tutti in un'unica squadra e invece di esplorare un paesino dovevano addentrarsi nei sotterranei dell'immaginario castello di blackmore ricordate questo nome per il futuro per salvare una principessa rapita oltre questo aveva importato da flyneis un wargame di combattimento tra aeroplani il concetto di esperienza e acquisizione di nuove abilità tramite il numero di partite giocate la principale lamentela però dei giocatori di arendson era che il gioco a cui giocavano fondamentalmente non aveva alcuna regola scritta la maggior parte delle cose veniva decisa da arendson stesso in base al suo giudizio arbitrario e questo aveva causato alcuni dibattiti alcune discussioni all'interno del gruppo per un bizzarro capriccio degli dei dei dadi arendson e gaiax si conoscevano personalmente si erano incontrati qualche anno prima a una convention di wargame ed erano rimasti in contatto via posta gaiax inviò una bozza delle regole di quella che sarebbe dovuta essere la seconda edizione di came mail ad arendson per fargliela playtestare col suo gruppo arendson ne fu entusiasta e applicò quel regolamento alle sue partite di blackmore per venire in conto alle richieste dei suoi giocatori che richiedevano regole più serrate regole più specifiche il risultato fu così sbalorditivo che arendson andò personalmente fino a lake geneva a fare una dimostrazione a gaiax di quello che era il gioco che era venuto fuori applicando le regole di came mail al blackmore gaiax rimase a sua volta così entusiasta che si mise immediatamente a scrivere un nuovo set di regole specificatamente pensato per quello stile di gioco provvisoriamente a questo regolamento venne affidato il nome di the fantasy game dopo due anni in sviluppo e altri due anni a cercare una casa di distribuzione che pubblicasse the fantasy game gary gaiax si stufò e fondò insieme al suo amico di infanzia donna raymond kane la sua casa di distribuzione di giochi con il blackjack e l'esquillo di lusso venne così fondata la tactical studio rules che probabilmente i giocatori con qualche anno sulle spalle ricordano poi il suo acronimo tsr stampato sul dorso di tutti i manuali nel gennaio del 1974 la tsr pubblica per la prima volta dungeon of sandragon a medieval fantasy war game playable with paper pencil and miniature figures quella che oggi è conosciuta come la prima inizioni di dnd o original dnd negli anni a seguire dnd si diffusa macchia d'olio sia in america che in europa e acquistò ogni anno una fetta sempre più grande del mercato fino ad arrivare a dominarlo e ancora oggi il gioco trainante dell'industria dei giochi di ruolo e molto probabilmente anche se brutto dirlo è stata una delle cause che hanno contribuito ad affossare il gioco in strategia rendendolo oggi un gioco più di nicchia un gioco più per esperti che è una forma di intrattenimento di massa come negli anni 70 la game workshop invece fu fondata l'anno successivo nel 1975 quindi non ebbe nulla a che vedere con la prima pubblicazione di dnd questo però non vuol dire che la game workshop non c'entri niente con dnd la game workshop c'entra sempre fu infatti il primo rivenditore europeo della tsr e fino al 1978 ebbe l'esclusiva per le vendite di dnd sul mercato europeo in seguito cercò pure di comprarsi la tsr ma la manovra non andò a buon fine però come diceva il narratore della storia infinita questa è un'altra storia e magari ne parleremo in un prossimo video per questo video invece tutto ci tengo a ringraziare wargame per passione che è stato allo scherzo messo a disposizione sui filmati vi lascio tutti i link in descrizione andatevele a vedere e a parte questo strafalcione in realtà il materiale che produce è ottimo quindi se siete interessati i giochi di strategia andatevi a iscrivere al suo canale tra l'altro sono mesi che è all'interno dei canali consigliati per quanto riguarda me invece questo è l'ultimo video della prima serie del canale mi prenderò il mese di agosto per rilassarmi un attimo non vi preoccupate continueremo a vederci ogni settimana con dei video un po' più leggeri ho già qualche idea ma non vanticipo nulla perché non so neanche io esattamente quello che farò probabilmente sarà il caso di sperimentare e naturalmente ci rivediamo tutti a settembre quando inizierà la seconda stagione e rinizieranno le serie regolari del canale fino a quel momento se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo per aiutare a crescere il canale io sono il master CAE noi ci rivediamo al prossimo video